Si riaffacciano i timori sul futuro del consorzio universitario di Agrigento. L'avvocato Gaetano Armao, presidente del CUP a confronto con i sindacati, ha detto le condizioni attuali e le prospettive future del polo didattico sono ancora difficili e nebulose. I sindacalisti di CGL e Cisleguin hanno infatti incontrato il presidente assieme ai rappresentanti dei consorzi universitari delle altre province della Sicilia che proprio Armao ha riunito da Agrigento. Nel corso della riunione l'avvocato ha invitato i colleghi degli altri consorsi a costituire un coordinamento di resistenza e di opposizione contro ulteriori tagli che pregiudicherebbero l'esistenza di tutti i consorsi decentrati della Sicilia. Infatti Gaetano Armao ha comunicato ai sindacati con preoccupazione che da parte della regione è pronto, come risulta da un relativo avviso, un ennesimo taglio del 20% dei finanziamenti destinati ai consorzi universitari siciliani. A margine di ciò il segretario provinciale della UIL di Agrigento, Gero Acquisto, commenta è chiara la volontà a questo punto di chiudere l'esperienza dei consorzi universitari che assolvono nei territori un compito culturale che le università siciliane più grandi, al contrario, accentrano solo nelle città metropolitane dell'isola. E ciò provoca un grave danno per la nostra provincia agrigentina, soprattutto per studenti e famiglie. Come UIL, aggiunge Acquisto, ribadiamo la nostra estrema contrarietà tale di segno e i ventilati tagli al personale. Siamo pronte ad una mobilizzazione che oltre ai sindacati coinvolga sindaci, deputazione regionale e nazionale, affinché l'assessore al bilancio e la presidenza della regione rispettino gli impegni assunti più volte in varie sedi e modifichano i termini di tale avviso di riduzione dei finanziamenti, scongiurando tra l'altro la chiusura della ventannale esperienza del Consorzio Universitario Provinciale di Agrigento che ha dato tante opportunità agli studenti del nostro territorio e non solo. Il Consorzio Universitario di Agrigento è ancora gravato da difficoltà. Il nuovo presidente Armao sta cercando in tutti i modi possibili di dare un nuovo volto formativo e finanziario all'ente, nonostante una situazione economica disastrosa, visto che ancora quasi 2 milioni di euro sono da incassare dall'ex socio l'ex provincia di Agrigento, si tratta di ostacoli che rendono difficile e arduo procedere in avanti e che di conseguenza scoraggiano gli studenti che peraltro, a seguito della chiusura di 4 corsi su 5, preferiscono iscriversi in altri atenei della regione. Ecco quindi che l'obiettivo cardine, il presidente Armao, diventa quello di puntare su una nuova offerta formativa e se l'Università di Palermo non intende investire sul CUPA, certamente si cercheranno altre strade finché passi un nuovo concetto di università che ponga la formazione superiore al centro dello sviluppo economico e sociale del paese.